musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi voglio portare per voi una challenge su fortnite me lo chiedete sempre durante le live dai xuder portami una challenge dai xuder portami una challenge e allora ragazzi oggi voglio accontentarvi e portare la madre di tutte le sfide ovvero sia solo armi comuni nell'inventario ragazzi cercherò di raggiungere il podio non sarebbe male utilizzando solo le armi grigie ragazzi quindi buona fortuna a me vediamo un pochettino se riusciamo a combinare qualcosa di buono intanto siamo atterrati all'under ragazzi quindi non mi sono buttato proprio nella primissima city alla discesa del bus ma in quella subito dopo e troviamo subito un tag bianco ragazzi attenzione si mette bene ragazzi si mette già bene attenzione al tag bianco la fortuna è dalla nostra ragazzi vediamo cosa succede c'è un cestino qua quindi bisogna recuperare un buon inventario abbiamo una R bianco ottimo ottimo bene così ragazzi sono già due super armi mi manca solo la mitraglietta bianca e abbiamo trovato praticamente tutto oh 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 non lo posso prendere lo scar leggendario attenzione così ragazzi attenzione così no vabbè dai no dai lo scar leggendario così no dai non ho parole ci vediamo il vampa bianco non posso fare la prossima la challenge qua bisognerebbe dai non me lo fare vedere più perché non ho parole proviamo a scendere proviamo a scendere ancora colpi i colpi pesanti li abbiamo ma sono inutili perché non esistono cecchini comuni quindi proseguiamo 50 di shield i proiettili invece sono indispensabili utilizzando meno slot per le armi che non sono comuni bella la succo slurp andiamo c'è anche un bel medic kit potremmo portarcelo via attenzione vediamo qua mi prendo invece lo shieldone a questo punto me la gioco così avanziamo attenzione così vediamo se c'è sopra il chest innanzitutto si c'è il chestino sopra andiamo a recuperarlo vediamo cosa ci regala dai vabbè ma è una presa per il culo dai ma cos'è ma dai ma non uno scarvio dai si fatemi sapere e vabbè dai ma dai ragazzi ovviamente fatemi sapere qua nei commenti se volete vedere altre challenge di fortnite ovviamente non vi dico tanto non la posso usare la torretta le troppole mi hanno detto che valgono quindi le troppole le piazzo mi hanno detto che valgono facciamo una cosa facciamo facciamo i puritani lasciamo giù lasciamo giù andiamo senza tutto bianco tutto bianco raga avanziamo avanziamo niente di interessante si prosegue quindi mi stavo dicendo un bel pollicione in su e un bel commento qua ragazzi se per caso avete altre challenge che vorreste vedere ditemelo io sarò felice di provare a portarvele un bel pollicione in su hanno probabilmente fightato avanziamo se vogliamo fare proprio i puri 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 lascio giù gli shieldini e mi prendo le vende solo grigio ragazzi inventario tutto comune ragazzi attenzione adesso inventario completamente comune vediamo siamo dentro in 23 abbiamo fatto un cacchio però siamo dentro in 23 ma non è colpa mia solo l'incontro gente oh non è che me la sto camperando dai dai manca solo un minuto ragazzi è lungo il pezzo da percorrere quindi vediamo di recuperare assolutamente una pietra oscura perfetto e avanziamo verso la destinazione ok ok Grazie a tutti. Siamo ancora uno contro uno, mi butto in mezzo raga. Un momento. Devo andare via da questo, da queste tentazioni. Le vende? No vabbè dai. Attenzione, siamo in dodici. Siamo fu con tutti i proiettili, con qualsiasi cosa. Siamo in undici. Proviamo a salire sulla montagna raga. Cerchiamo di prendere un po' di Aig. Ce n'è uno là sopra, mi sembra di aver visto. Attenzione. Devo assolutamente prendere un po' di Aig. Sono in mezzo ai fuochi ragazzi. Attenzione. Vai. Ma quelli di prima non ho capito come sono crepati, però va bene. Cerchiamo di salire, cerchiamo di salire. Magari passando da dietro, magari imbracciando un mitra. C'è gente qua ragazzi. C'è gente qua. Buona così la kill. Attenzione. Grande la doppia kill. Attenzione. Oh. Buona così. Siamo in cinque raga. Attenzione. Siamo in cinque ragazzi. Cattivissimo questo pompa bianco. Super cattivo ragazzi. Super cattivo. Riprendiamolo. Pompas salvavita raga. Dobbiamo cercare di capirci qualcosa in più adesso. Tipo dov'è la gente? Dobbiamo cercare di capirci. Siamo in cinque ragazzi. Oh. Oh. Bravo Siamo arrivati quarti ragazzi va bene va bene o due che le abbiamo fatte no era a dieci di vita Questo poteva andare giù raga questa è stata la mia prima challenge se vi è piaciuta un bel like Iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao Grazie a tutti